Il Comune di San Clemente si candida a Capitale Europea del Vino 2024. Il dossier di candidatura è stato preparato dal Comune e dal Comitato Promotore e quindi dovrà essere presentato entro l'aprile del 2023. Sì, entro il 28 aprile 2023 il Comune di San Clemente, come gli altri comuni italiani concorrenti, perché nel 2024 Capitale Città Europea del Vino sarà una città italiana, deve presentare un dossier di candidatura. Il dossier è costituito dalla compilazione di una modulistica, anche molto accurata, messa a disposizione da Recevin, che è la rete europea delle città del vino. Poi il dossier va completato con tutto ciò che il Comune è in grado di mettere in gioco per valorizzare la propria candidatura. La cosa più importante è il progetto enoturistico e culturale, a sostegno della destinazione romagna, di cui parlavo prima, cioè il fatto di creare un movimento enoturistico non solo nel Comune di San Clemente ma anche nell'intero territorio della Romagna. E poi vanno individuati una serie di eventi che non solo nel 2024 ma anche negli anni successivi possano attirare questo movimento enoturistico, quindi dei viaggiatori curiosi, anche nel nostro territorio. Abbiamo una storia, siamo in grado appunto di raccontarla. I percorsi e le esperienze di enoturismo oggi rispondono a delle tendenze che hanno numeri importanti a livello internazionale, a livello mondiale, quindi poterla intercettare è sicuramente un plus per questo territorio. La costruzione di un prodotto di enoturismo deve essere sicuramente consolidata nel tempo, quindi con il coinvolgimento sia delle istituzioni e dei soggetti privati, delle aziende che sono fondamentali e che sono il fulcro di una progettualità e di un prodotto turistico, dobbiamo appunto avviare questo percorso. La candidatura a Capitale del Vino 2024 di San Clemente ci aiuta a lavorare in questo senso, a rafforzare quella rete e a rafforzare e a far emergere le eccellenze del nostro territorio. È una rivoluzione culturale, nel vero senso della parola, e quindi noi grazie anche ad elementi di comunicazione come il vostro, che ci danno spazio, avremo la possibilità di piantare dei semini in maniera che la pianta cresca e che porti dei buoni risultati.